A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati per questo consueto appuntamento che vede insieme Trading Room Roma e Teletrade per darvi un supporto al vostro trading quotidiano. Qui Emanuela Negro, prima di cominciare vorrei dare un piccolo sguardo a un segnale che ho avuto questa mattina, un segnale abbastanza comunque rischioso per chi ha seguito il nostro, chi ha letto il nostro daily, saprà il perché, lo vedremo comunque sul grafico, un'entrata 1.1330 con uno stop abbastanza stretto 1.1347, target 1.13, io appunto sul primo target vedremo poi perché. Se volete prenderne nota potrebbe essere già il momento per poter entrare e tra l'altro però attenzione perché alle 11 ci saranno dei dati sull'euro, quindi eventualmente salvaguardate l'opposizione o comunque entrate soltanto se potete permettervi, grazie magari ai profitti fatti ieri, di rischiare questi 15 pip, insomma 17 pip di stop. Comunque partiamo subito con l'analisi macroeconomica della giornata, ieri è stata una giornata abbastanza tranquilla, scusatemi, ecco qua, una giornata abbastanza tranquilla però mi soffermerei su alcuni dati che sono stati pubblicati, in particolare l'indice manifatturiero per l'area di New York che ha segnato una fase di rallentamento dell'economia americana, infatti è crollato a meno 9,02 punti rispetto ai più 9,56 del mese precedente, si tratta tra l'altro di un livello molto inferiore rispetto alle attese. Sono stati poi pubblicati ieri anche i dati relativi alla produzione industriale per la Cina, questa è salita ad aprile del 6%, meno quindi del 6,5% che era atteso dagli analisti. È stato diffuso anche il dato relativo alle vendite al dettaglio, sempre per il mese di aprile e queste sono cresciute ad un ritmo del 10,1%, quindi un ritmo inferiore rispetto al 10,5% del mese precedente. Naturalmente si tratta di dati che altri paesi dell'economia occidentale potrebbero soltanto sognare, però l'espansione economica della Cina sta comunque avvenendo ad un ritmo più basso rispetto agli ultimi 25 anni e questo fattore spaventa i mercati di tutto il mondo. Importante alcune considerazioni sul petrolio, sono possibili ancora delle fasi di interruzione della produzione, ci sono state in Nigeria ed è possibile che quest'oggi si verifichino anche nel Venezuela, quindi verifichiamo per chi segue il petrolio anche l'andamento di questi avvenimenti macroeconomici. Diamo un piccolo sguardo prima di passare ai grafici all'agenda macroeconomica della giornata, oggi una giornata densa di appuntamenti, importante alle 10.30, forse appena pubblicato l'indice dei prezzi al consumo per la Gran Bretagna insieme all'indice dei prezzi al dettaglio e l'indice dei prezzi della produzione. Poi alle 11 la bilancia commerciale per l'Eurozona, quindi attenzione alle valute che appunto muovono questi due cross almeno in queste prime ore della mattinata. Noi tendenzialmente non operiamo sulle news, però in questo caso abbiamo implementato un'operazione sull'Eurodollaro con un rischio molto basso, sapendo che potrebbe anche essere compromessa, ma perché abbiamo ritenuto di farlo in funzione dei profitti fatti con le operazioni di ieri. Alle 14.30 i dati relativi al mercato statunitense, io mi concentrerei sulla produzione industriale delle 15.15 e poi anche sul dato in uscita alle 22.35 relativo alle scorte settimanali di petrolio. Diamo un'occhiata alle operazioni, ai report, diamo uno sguardo al report sui segnali che sono stati dati ieri. L'operazione sul dollaro neozelandese che avevamo individuato è stata chiusa nel pomeriggio alle 18 a 0,68 con 19 pips di profitto. In realtà poi vedremo adesso sul grafico che il cross ha ripreso la corsa, avrebbe potuto prendere il target, però noi come modalità operativa chiudiamo le operazioni nella giornata o quantomeno le salvaguardiamo. L'operazione anche del dollaro yen, ieri il dollaro yen non si è mosso granché, è rimasto molto fermo, quindi alle 21, nella sessione delle 21, l'abbiamo chiusa a 108,95 con 16 pips di profitto, mentre l'operazione sul cross sterlina dollaro canadese si è chiusa in profit al primo target, quindi 40 pips e avevamo segnato di monitorare il cross euro GBP per un'operazione in sell, il segnale lo abbiamo avuto nella sessione delle 14 e anche questa si è chiusa in profitto con 40 pips. Vediamo l'operazione quindi di oggi, io partirei proprio sul grafico dell'euro dollaro per andare a commentare questa operazione e per rendervi partecipi del rischio magari collegato a questo tipo di operazione. ecco qua, allora per chi ha letto, intanto rinnovo, intanto l'invito eventualmente a fare, a rivolgere le vostre domande e i vostri commenti utilizzando la chat che è qui, che vedete qui sul vostro, al lato insomma sulla destra. Buongiorno Oscar e benvenuto. Quindi partiamo subito dall'euro dollaro, dicevo per chi avesse letto il daily quotidiano, noi abbiamo specificato come la situazione sull'euro dollaro fosse delicata perché come si può vedere anche da questo grafico il cross ieri si è appoggiato proprio su questa trend line rialzista che stava seguendo il movimento e quindi i minimi dei mesi precedenti partendo appunto dalla fine di febbraio. Quindi malgrado la visione nel breve termine fosse ribassista, sarebbe plausibile attendersi un rimbalzo su questi valori. Tra l'altro vediamo che si è appoggiato anche sulla media mobile a 50 periodi, quindi sicuramente livelli che possono essere sentiti dal cross per dei ritracciamenti, quindi comunque per delle fasi di respiro che ovviamente nel lungo periodo, per operazioni di lungo periodo potrebbero non essere rilevanti ma nelle operazioni di breve invece si potrebbero minare la nostra operatività. Ecco perché la conferma che si è avuto questa mattina sul cross euro dollaro di questo massimo mi ha spinto ad implementare un'operazione abbastanza contenuta, ero su un livello interessante 1,1330, lo stop era minimo 1,1347 quindi sopra la media mobile a 20 periodi e il target contenuto a 1,1350, quindi target stretto se l'operazione va bene altrimenti insomma pazienza abbiamo comunque tentato, di conseguenza per chi non avesse questa propensione al rischio quindi non è un'operazione particolarmente probabile insomma in cui il successo potrebbe essere probabile quindi vi consiglio vivamente di non seguirla. Viceversa possiamo invece avere una maggiore conferma di operazioni short qualora il cross dovesse magari riconfermare, ritornare in seguito anche alle notizie che saranno pubblicate alle 21, scusatemi alle 11, in seguito a quelle notizie potrebbe ritornare all'interno del canale discendente quindi da lì si potrebbe poi iniziare a seguire il movimento. Naturalmente verifichiamo a questo punto per implementare delle operazioni a ribasso, verifichiamo che il cross almeno nella chiusura della giornata rompa il minimo precedente quindi ci dia una conferma di voler riprendere il movimento ribassista e quindi rompa la media mobile a 50 periodi che abbiamo visto sul grafico giornaliero. Sarebbe difficile dal livello in cui siamo ora ipotizzare una salita a meno che insomma non vengano pubblicati dei dati particolarmente sconvolgenti per il mercato è difficile andare a pensare che entro oggi si possa implementare un'operazione short da un livello un po' più alto da 1,1377. Ormai il cross si è fermato in quest'area, siamo sotto la media 200 periodi quindi è difficile pensare di poter prendere una discesa ad un livello, almeno di poter prevedere ecco di prendere una discesa ad un livello un po' più interessante. Ecco perché qui siamo entrati con questa piccola operazione. Prima di implementare invece delle operazioni al rialzo io aspetterei che il cross eventualmente ritornasse al di sopra della resistenza di 1,1377. Questo mi metterebbe, vediamo la visualizzazione un po' più ampia, mi permetterebbe di rendere nuovamente valido il canale ascendente che stava rappresentando il movimento nel medio periodo e quindi a questo punto con attenzione, con l'attenzione insomma di verificare che il cross superi il livello qui di 1,1430, 1,1435 che più o meno corrisponde diciamo ai massimi precedenti quindi una volta che il cross mi ritorna sopra 1,1435 allora potremmo avere la conferma che il cambio sia riprendendo il movimento di salita e che quindi possa rispettare questo canale ascendente, quindi potremmo poi andare sui target individuati dalle resistenze quindi a 1,1480, 1,15 e poi via via di seguito. Quindi per il momento mi sento solo di implementare questa piccola operazione con target contenuto non, io ci ho messo appunto 1,13, eventualmente 1,13, 1,12,90 ma non oltre per il momento. Andiamo a guardare un altro cross interessante, anche la sterlina come abbiamo indicato nella nostra analisi, anche nel daily per chi ha avuto il tempo di leggerlo, si trova in una situazione analoga, guardando la tendenza, diciamo il grafico giornaliero possiamo verificare che anche qui si è verificata la stessa situazione del cross euro-dollaro, anche qui il cambio si è appoggiato sulla media mobile a 50 periodi, si è appoggiato sulla trend line che rappresenta la salita che tra l'altro è iniziata anche qui dalla fine di febbraio e quindi la situazione è analoga, soltanto che la sterlina se vogliamo si differenzia rispetto all'euro-dollaro per il fatto che non ci ha dato una conferma di massimo decrescente e quindi non ci sta rendendo, non ci sta validando almeno nel breve periodo questa visione ribassista che stavamo invece seguendo nelle giornate passate. Il cross infatti ha iniziato una fase di salita, un pochettino spinta anche dai dati che sono stati pubblicati quindi proprio qualche minuto fa e quindi ha iniziato una fase di salita e si è riportato verso il massimo precedente, quindi sta già iniziando a mettere in discussione la visione ribassista di breve. A questo punto aspettiamo di verificare che il cross magari confermi il prossimo massimo, conferma che noi valutiamo non solo in termini grafici ma anche in termini quantitativi, cioè in termini di conferma che ci verrà da una serie di indicatori che noi utilizziamo. Se il prossimo massimo si dovesse attestare ad un livello inferiore rispetto al precedente, quindi rispetto al livello qui di 1,45,30 e quindi in linea generale al di sotto della resistenza di 1,45,45, se il massimo si dovesse registrare, quindi confermare al di sotto di quest'area si potrebbe seguire un movimento ribasso, magari dietro eventuale rottura o conferma, magari pull back al di sotto di questa resistenza per magari iniziare a seguire già il ritorno sino al canale, alla parte bassa del canale di congestione segnato in grigio, canale che aveva contenuto il movimento nei giorni scorsi, quindi se siamo fortunati, ci conferma un massimo in quest'area, magari nell'area in cui si trova, potremmo implementare delle operazioni a ribasso intanto con un target contenuto sino a 1,43,80, 1,43 o 90 come intorno alla media 200 periodi, poi magari potremmo mantenere l'operazione e se ci dà la possibilità il cross o rientrare su un successivo rimbalzo per poi riprendere il movimento ribassista che per avere un target un po' più ampio dovrebbe comunque portarmi il cross all'interno di questo canale e superare quantomeno il supporto di 1,43, quindi soltanto il superamento di questo supporto per me potrebbe essere un segnale di ripresa del movimento short, quindi magari la rottura di 1,43 verificata anche su grafico giornaliero e quindi in chiusura di giornata di oggi mi darebbe il segnale di una ripresa, quindi della violazione di quella trend line rialzista che abbiamo visto sul grafico giornaliero, quindi per il momento mi organizzerei a implementare delle operazioni solo di breve periodo con target contenuto. Per invece riprendere la visione rialzista per me sarebbe necessario che il cross ritornasse sopra la resistenza di 1,45,43. Questo sarebbe un segnale importante perché il cross rientra all'interno del canale che aveva definito il movimento, se lo vediamo su una visualizzazione più stretta, il canale tracciato in nero conteneva, quindi ha contenuto il movimento a partire qui già quest'ultimo dai primi di aprile e quindi mi validerebbe questo canale. A questo punto dietro pullback conferma ovviamente di minimo sempre crescente e posizionato all'interno di questo canale io punterei sul ritorno delle quotazioni verso i massimi per i quali diciamo il primo target dovrebbe essere 1,46,70. Mi fermo un minuto per verificare nella chat se ci sono delle altre domande. Allora, buongiorno Roberto e buongiorno anche Vincenzo. Vediamo cosa mi scrive Vincenzo. Allora, volevo chiedere i livelli rossi e verdi per che cosa si distinguono, su che time frame sono tracciati. Allora, sono tracciati sul time frame a 4 ore, così come ti sto facendo vedere la visualizzazione. Sono supporti e resistenze, in realtà sono gli stessi valori, io per una migliore lettura li trasformo in verde quando sono delle resistenze e in rosso quando sono dei supporti, ma naturalmente i valori rimangono sempre gli stessi, sono io che cambio il colore per renderli più leggibili, più facilmente individuabili, anche poi per la pubblicazione degli schemi sul report giornaliero, però si tratta insomma di supporti e di resistenze. Prego Vincenzo. Passiamo al grafico successivo, interessante anche qui la situazione del dollaro Yen. Il dollaro Yen ieri ci aveva dato un segnale di ingresso qui sulla rottura di 108,70, è stato confermato un minimo crescente e quindi siamo entrati long in direzione intanto della parte alta del canale di congestione, cioè in direzione di 109,43. Il cross però ieri non si è mosso più di tanto, ne riprova anche il fatto che le medie alla fine si siano anche abbastanza appiattite nella giornata, non abbiamo avuto volatilità e quindi in chiusura di giornata abbiamo deciso di chiudere l'operazione con un piccolo profit, se non ero di 16, 19 pips, adesso non ricordo bene. Quindi abbiamo chiuso l'operazione. Stamattina il cross ha ripreso la corsa, l'abbiamo chiusa comunque ben consapevoli che ancora il movimento in salita poteva continuare, la tendenza rimaneva ancora a rianzo. Però abbiamo deciso di chiudere l'operazione e di verificare il comportamento nella giornata odierna, proprio perché poi nella mattinata alle 6 ci sarebbero stati dei dati sul mercato giapponese e quindi avrebbe potuto compromettere la situazione e modificare la situazione. Stamattina i dati sono risultati a favore del cross dollaro yen che quindi ha iniziato la salita, ha rotto il livello di resistenza intraday che era stato individuato dal canale di congestione, quindi ha rotto 109,35, rompe anche la media mobile a 200 periodi e quindi ci dà un segnale di ripresa del movimento rialzista. Ovviamente il nuovo movimento rialzista lo faremo poi passare dai nuovi minimi, quindi sarà meno accelerato rispetto a quello precedente. Io personalmente non appena mi confermerà il nuovo massimo andrò a tracciare il nuovo canale che avevamo già allungato qui e poi traccerò la cosiddetta return line facendola passare dal massimo che sarà poi definito nelle prossime ore, perché al momento ancora non abbiamo avuto una conferma definitiva di massimo. Se qui il cross dovesse effettivamente confermare questo livello e ritornare giù, seguirei questo nuovo canale e quindi importante questo per i nuovi target, quindi non sarebbe un movimento accelerato come quello che stavamo seguendo nei giorni precedenti. Attualmente questo però non lo eliminiamo perché è solo una situazione teorica, il cross potrebbe rompere il supporto di 109,80. Vi ricordo che noi come Trading Room Roma abbiamo anche inserito un ordine a breakout su 109,90, quindi se il cross rompe mi tocca quel livello noi entriamo a breakout su 109,90. L'ingresso a breakout su questo livello fatto così direttamente sul valore è un ingresso che deve essere monitorato su scala multi day, noi infatti ci mettiamo uno stop che è pari a due ATR calcolati sul grafico giornaliero. Non mettiamo un target perché puntiamo su dei profitti più ampi per quanto riguarda le operazioni multi day, che profitti che si vengono, che verranno poi alla fine definiti dal mercato. L'operazione infatti si chiuderà con un trailing stop manuale che andremo noi a valutare. Tra l'altro per chi è interessato a questo tipo di operazioni che essendo multi day sono un pochino più rischiose e quindi ci richiedono la gestione di una sorta di portafoglio valutario, vi rinnovo l'invito a partecipare alle sessioni di live trading delle 21 di Trading Room Roma, anche queste sono messe a vostra disposizione da Teletrade, soltanto che dovreste segnalare eventualmente o al mio indirizzo o al servizio clienti di Teletrade la volontà di partecipare a queste ulteriori sessioni. Non vogliamo infatti annoiarvi con troppe analisi o con troppe magari email di invito. Quindi se siete interessati mandate un email anche a me, ripeto l'indirizzo manuela.negro.tradingroomroma.it indicandomi che avete interesse di partecipare alle sessioni delle 21 perché da lì poi verranno implementate delle operazioni su scala multi day e quindi sarà effettuata un'analisi del mercato Forex relativa alla chiusura dei mercati. Quindi io l'operazione, ritornando adesso al dollaro yen, l'operazione che avevo impostato ieri era stata anche fatta nel tentativo di rimanere in posizione e di anticipare un breakout. Purtroppo il cross non ce l'ha permesso, quindi a questo punto rimane in piedi l'ordine implementato a quota 109,90 e poi la gestiamo su scala multi day. Il ritorno del cross al di sotto di 108,40 potrebbe intanto spingermi ad eseguire delle operazioni a ribasso di piccolo calibro sino a 107,60. Non oltre perché questo potrebbe ancora essere un punto di ripartenza del movimento rialzista. Questo lo possiamo verificare anche se andiamo a tracciare i fibonacci. Vediamo adesso magari dall'ultima posizione che appare la più alta. Vediamo che questo, almeno da dove siamo ora, coincide questo supporto con il supporto relativo al ritracciamento del 50% di fibonacci dell'ultima salita. Quindi potrebbe potenzialmente essere un punto di ripresa del movimento, magari con una velocità meno evidente, meno forte rispetto al movimento precedente. Ecco perché andrà eventualmente in short, ma per target piccolissimi sino a 107,60 e non oltre. Vediamo se ci sono delle domande in merito a questo cross, altrimenti passiamo avanti. Allora, Roberto Sepe, come individua queste resistenze e questi supporti? Con le tecniche dell'analisi tecnica, quindi massimi e minimi e soprattutto io comunque le faccio molto coincidere, cioè per me hanno un'importanza rilevante, ma non essenziale sul mio grafico. Non sono le rotture di questi supporti e di resistenze che mi implementano, mi spingono ad implementare un'operazione. La mia visione è una visione ciclica, questo lo spieghiamo anche nelle nostre sessioni di Trading Room Roma, nei nostri corsi, quindi i supporti e le resistenze sono collegati ai massimi e minimi in realtà ciclici che noi andiamo a valutare, ma per un buon 70-80% corrispondono ai supporti e le resistenze tracciati secondo le regole dell'analisi tecnica, secondo i massimi e minimi individuati sul grafico, in questo caso a 4 ore. Allora, pensavo a qualcosa di diverso? No, 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 niente di strano. Allora, Sandro Giuliani, buongiorno a te, mi chiedi di ripetere l'indirizzo email? Sì, manuela.negro.tradingroomroma.it. Tra l'altro, Sandro, riceverai un'email dal mio indirizzo con il report quotidiano che sarà pubblicato, forse tu sei un nuovo iscritto, quindi la riceverai questa sera e lì potrai poi utilizzare quell'indirizzo per qualsiasi altra comunicazione, richiesta, informazione sul mercato valutario. Bene, quindi passiamo al cross dollaro neozelandese, che non abbiamo ancora visto, anche qui il dollaro neozelandese, allarghiamo un pochettino alla visualizzazione, si era chiuso in questo canale, nel triangolo ascendente ieri e tra l'altro questo triangolo, il movimento del cross, era stato caratterizzato anche da una contrazione di volatilità, quindi tant'è che si era addirittura ridotto all'interno di questo triangolo. Quindi se vogliamo, tracciamolo meglio, ecco qua, quindi si è ridotto all'interno di questo triangolo. Questo triangolo ci fornisce dei livelli interessanti per poter andare a riprendere il movimento. Noi siamo entrati qua su conferma di questo minimo e qui il cross non ha raggiunto il target che c'eravamo dati, che c'eravamo fissati, quindi abbiamo chiuso l'operazione. Dopodiché è rifatto un nuovo minimo crescente, quindi la visione rimane ancora confermata rialzista, anche se prima di implementare delle operazioni un po' più ampie, perché ora siamo all'interno di questo triangolo che si è abbastanza compresso, quindi è difficile andare ad operare con questi pochi margini, proprio in termini di rapporto rischio-rendimento. Quindi io aspetterei che il cross, per implementare delle operazioni un po' più interessanti, ritornasse sopra 0,6840, quindi violasse i massimi precedenti e quindi vediamo che questa resistenza statica coincide anche con la resistenza dinamica rappresentata dalla media mobile a 200 periodi, che sta coincidendo con la media anche a 100 periodi, quindi potrebbe essere un livello importante dal quale il cross potrebbe ripartire per riprendere il movimento rialzista che avevamo individuato con il canale precedente. Quindi le operazioni di breve periodo potrebbero essere implementate soltanto se esiste nel momento in cui il cross ci dà la conferma o abbiamo la chiusura della candela, soltanto se esiste un adeguato rapporto rischio-rendimento e che deve essere calcolato considerando che il minimo attualmente è segnato a quota 0,6778, quindi qualsiasi stop deve essere posto al di sotto di 0,6778 e l'eventuale target dovrebbe essere 0,6837, quindi una conferma rialzista, diciamo un movimento rialzista dovrebbe essere implementato se il cross supera, entra all'interno della trend line e però ci dà una conferma ad un livello tale da poter avere un adeguato rapporto, quindi io la vedo molto difficile da fare. A questo punto lascerei perdere un'operazione intraday in questo spazio e provvederei invece a seguire i movimenti un po' più ampi, quindi al di sopra di 0,6840 in maniera tale da poter seguire poi un ritorno su 0,69-0,6950 oppure attenzione nel caso di rottura del supporto di 0,6750, attenzione perché lì c'è stata anche una situazione di falso breakout nei giorni precedenti che noi fortunatamente abbiamo chiuso a 0, cioè fortunatamente il mercato ci ha permesso di chiederla comunque a 0, però quindi questo livello è un livello importante, il cross ci potrebbe ritornare. Naturalmente prima di seguire delle operazioni a ribasso da questo livello aspettiamo un'ulteriore conferma, una conferma di un massimo decrescente magari che viene messo al di sotto del supporto di 0,6750 che poi diventerà una nuova resistenza, non affrettatevi ad eseguire l'operazione perché la rottura del supporto con il pullback ci potrebbe dare l'opportunità di seguire un movimento a ribasso interessante, se infatti noi andiamo a verificare le giornate precedenti del cross, noi avevamo questo canale di congestione nel quale era stato spesso contenuto il movimento, quindi una rottura di 0,6750 potrebbe spingerci a puntare sul ritorno verso la parte bassa di questo canale, quindi lo spazio ce l'avremmo sia per i profit e quindi per individuare un buon rapporto rischio rendimento, quindi nel caso di rottura 0,6750 non affrettatevi, aspettiamo una conferma magari anche sul grafico giornaliero ed individuiamo insieme nuovi punti di ingresso per seguire il movimento ribassista. Vediamo un altro cross, il dollaro australiano, il dollaro australiano stava riconfermando il movimento a scendere, stavamo aspettando una conferma di massimo, non c'è ancora dato il segnale, il movimento non è ancora stato completato. Ingrandiamo un attimo il grafico. Ecco qua, la candela che si è aperta alle 10 questa mattina potrebbe, quindi che chiuderà alle 14 potrebbe darci intanto un segnale grafico di conferma di massimo sul livello individuato qui a 0,7366. Se questo viene affiancato poi con una conferma quantitativa, quindi degli indicatori, questo potrebbe essere un punto interessante, visto che il massimo sarebbe comunque decrescente rispetto al massimo di riferimento precedente, potrebbe essere un punto interessante per puntare sul ritorno intanto del prezzo, dei prezzi sino alla parte bassa del canale sino al minimo precedente individuato a quota 0,7248. Quindi aspettiamo una conferma per entrare in short. Se invece questa conferma alla chiusura della 14 non dovesse verificarsi e quindi il cross dovesse continuare invece la salita e raggiungere il livello di 0,74 che vediamo corrispondere al massimo precedente, oltre ad essere una resistenza sentita dal cross più volte, a questo punto dovremmo aspettare perché il cross potrebbe in realtà decelerare, cioè manifestare appunto una forma di rallentamento del proprio movimento sempre ribassista, rallentamento che si andrebbe ad esplicitare con un ritorno verso la parte alta del canale di congestione e quindi dovremmo individuare un nuovo massimo più interessante per riprendere il movimento. A questo punto il movimento potrebbe essere lungo, ovviamente qui abbiamo un canale tracciato ma il movimento rialzista potrebbe anche estendersi oltre quel livello, quindi raggiungere 0,7585 o il livello qui 0,7664 senza compromettere la visione ribassista, quindi a questo punto potremmo anche iniziare a seguire il movimento rialzista, ovviamente per poterlo fare e puntare diciamo sino al punto, sino al livello che il cross definirà come massimo dal quale puoi ripartire per il movimento a ribasso. Ovviamente in questo caso la situazione si complica, abbiamo bisogno di ulteriori conferme per poter entrare long, le conferme ci vengono date dal comportamento più strutturato del cross che si andrà a realizzare attraverso dei successivi minimi crescenti che ci confermano questa visione. Quindi per il momento nelle prossime ore monitoriamo soltanto se il cross mi conferma un massimo in quest'area dove si sta appoggiando in questo momento, conferma di massimo con indicatori e ovviamente con conferma grafica. Se così dovesse essere si può puntare verso il ritorno sui minimi precedenti, altrimenti aspettiamo poi dei successivi minimi per poter seguire, valutare se seguire il movimento anche al rialzo sino al ritorno verso la parte alta del canale discendente che abbiamo tracciato. Allora mi fermo un minuto perché vedo che ci sono delle domande. Allora Luigi, allora in questo caso vedo, allora sì, mi chiede praticamente se io do, che peso do all'analisi delle candele. Allora le analisi delle candele per me non hanno un peso determinante nella scelta, nella valutazione delle mie operazioni d'ingresso. Non sempre sono sufficienti per valutare la fine, per esempio parlando del, era il grafico, ah sì sì ho capito Luigi, quindi passo un attimo sul grafico del dollaro neozelandese e tu mi dici che in questo caso vedi una shooting star e quindi tu saresti entrato sulla rottura. Ripassiamo sul grafico del dollaro neozelandese. Sì, sì sì ho capito la tua osservazione, per me le candele non sono degli elementi determinanti nella scelta, nella decisione di implementare un'operazione. Le candele per me vengono accompagnate da indicatori e da un'analisi grafica che è quella che poi sto riportando in questo momento. Quindi se la candela comunque mi viene, si viene come in questo caso a realizzare all'interno di una situazione congestionata dove ho dei livelli che mi possono impedire il raggiungimento dei miei target e che quindi non mi rendono un adeguato rapporto rischio rendimento, io comunque non entro. E in linea di massima per me la lettura delle candele è molto relativa, non mi dà delle indicazioni efficaci in termini proprio di percentuale di validità delle operazioni, di percentuale di correttezza delle operazioni. Per me le operazioni una buona valutazione di esattezza delle operazioni me la danno soltanto gli indicatori che mi permettono di raggiungere un grado di attendibilità superiore all'80%. Le candele non mi danno, almeno per la mia esperienza, non mi hanno dato una simile percentuale di affidabilità. Passiamo sull'ultimo cross, il dollaro, cancelliamo un pochettino il Fibonacci, passiamo sull'ultimo cross che è il dollaro canadese, anche sul dollaro canadese abbiamo attualmente una fase di discesa, quindi la situazione è abbastanza attualmente controversa perché il cross ha cercato di ritestare il minimo, naturalmente la candela che si sta formando, che chiuderà alle 12 è una candela che ancora io non prendo in considerazione, se effettivamente alle 12 chiuderà con così e gli indicatori mi daranno conferma, quindi chiuderà all'interno del canale rialzista che abbiamo tracciato e gli indicatori mi daranno conferma che il cross ha ripreso il movimento a rialzo, allora io potrei seguire la salita e implementare un'operazione long, intanto puntando sul ritorno sul massimo precedente che è uno qui individuato a 1,2962 che tra l'altro vediamo che coincide anche con la resistenza immediatamente più vicina ai livelli in cui noi siamo, quindi punterei in questa direzione. Se dovessi fare una previsione, così pur parler come si dice, io vedo attualmente una situazione un pochettino compromessa perché, e quindi ritengo che sia un po' difficile che il cross possa ritornare all'interno. Abbiamo due minimi infatti decrescenti, quindi potrebbe essere possibile che il cross riprenda un movimento ribassista, quindi non mi aspetto che effettivamente il cross ritorni al di sopra di questi valori. Naturalmente questa è una mia aspettativa, poi noi verifichiamo il cross, verifichiamo che cosa succede graficamente. Noi a Trading Room abbiamo un motto, guarda, valuta e negozia, cioè guarda il grafico e opera di conseguenza. Le aspettative personali lasciano il tempo che trovano, però sono importanti per valutare un'eventuale strategia di ritorno, una strategia diversa perché noi siamo dei trader, dobbiamo valutare il nostro grafico e valutare le varie possibilità, le varie alternative di intervento. Se effettivamente il cross dovesse non ritornare all'interno del canale, prima di implementare delle operazioni al ribasso comunque io aspetterei un ritorno per le operazioni di lungo periodo, quindi con un target più ampio, un ritorno sotto 1,2760. Altrimenti anche una rottura della media a 100 periodi per delle operazioni veloci mi potrebbe spingere a implementare un'operazione short però sino al ritorno appunto su 1,2767. Infatti se tracciamo il Fibonacci relativo all'ultima salita, vediamo che qui proprio sotto 1,2767 più o meno corrisponde il 50% di Fibonacci, quindi tra l'altro coincide con il minimo precedente e quindi una rottura di questo livello con ovviamente la ricerca di un punto adeguato di ingresso mi permetterebbe di seguire un movimento ribassista più interessante. Magari il cross potrebbe riprendere una discesa per ritornare sul minimo precedente. Se invece il cross mi rompe 1,2830 io andrei con operazioni di piccolo calibro puntando magari sul ritorno verso questo minimo e quindi con un target massimo su 1,2767, 1,2770. Bene, credo di aver guardato tutti i cross, vediamo se ci sono delle altre domande, sì ne vedo delle altre e allora Gaetano vediamo, si possono avere le registrazioni video di tutti gli incontri webinar a partire dal primo perché mi sono perso la prima lezione? Sì sì, tra l'altro le registrazioni noi le mettiamo a disposizione più o meno nel giro di un'oretta dalla chiusura della sessione. Tra l'altro non sono delle vere e proprie lezioni Gaetano, sono semplicemente dei momenti di valutazione in tempo reale del grafico e quindi non credo che ti possano essere molto utili quelle precedenti. Io ti consiglio semmai di rivedere oggi quella di oggi in maniera tale da monitorare più da vicino il cross, poi se appunto sei interessato puoi partecipare alla sessione delle 21 e quindi avrai anche la visione della chiusura dei mercati. L'importante è che mi mandi la tua adesione via email all'indirizzo che vi ho dato prima. Allora, Sandro mi chiede, quando dici indicatori a cosa ti riferisci esattamente? Alle medie mobili tracciate o ad altri indicatori? No, no, le medie mobili per me anche insieme all'analisi delle candele sono degli indicatori che sono molto in ritardo, quindi mi danno semplicemente delle conferme ma dopo che io ho già eseguito la mia operazione. Nel 90% dei casi la mia operazione viene implementata prima che graficamente le medie mi diano un segnale. Mi riferisco ad altri indicatori, sono indicatori che noi utilizziamo nella mia strategia, io seguo dei cicli e quindi una serie di indicatori che mi permettono di leggere attentamente il ciclo. Simone mi chiede, oltre alle bande di Bollinger quali altri indicatori utilizza? Io le bande di Bollinger non le uso, tra l'altro non mi piacciono, ho un'antipatia personale nei confronti di questo strumento, infatti non ci sono nemmeno nel mio grafico. Utilizzo degli altri indicatori, tra cui se sono presenti lo stocastico, li utilizziamo in maniera particolare, comunque perché individuiamo dei punti di ingresso in maniera molto semplice, diciamo in maniera molto, tra virgolette, matematica su indicatori specifici che utilizziamo in Trading Room, che poi sono oggetto, diciamo, dei nostri corsi. In linea di massima, se voi date uno sguardo al daily, al report quotidiano che pubblichiamo, abbiamo anche la visione, la valutazione di indicatori, quali lo stocastico, l'RSI, il MACD e poi l'ADX e l'ATR, per avere le conferme appunto del movimento. Per l'analisi ciclica, quali, mi chiede Fabio, quali indicatori è bene usare? L'analisi ciclica può essere individuata da vari indicatori, ciascuno utilizza i propri, ma sicuramente l'RSI e il MACD sono quelli che sono un po' più leggibili, più attinenti, anche se devo dire che il MACD è un po' più in ritardo rispetto all'RSI. Lo stocastico, mi chiede Roberto, quale settaggio usi? Quello che è standard, quello che vi dà anche la piattaforma, non utilizziamo dei settaggi particolari, niente di nuovo, operiamo in maniera molto semplice, molto più semplice di quanto in realtà possa sembrare attraverso un'analisi complessiva che poi viene fatta in queste sessioni. I segnali di ingresso delle operazioni sono veramente semplicissimi per noi. Bene, ora vi devo lasciare, vedo che vi ringrazio intanto per la vostra partecipazione, per la vostra attenzione, siamo andati oltre l'orario, grazie molto per il vostro interesse, spero di esservi stata d'aiuto e rinnovo l'appuntamento per domani mattina alle 10.30, sempre per l'analisi dei principali cross valutari, vi invierò il report quotidiano più tardi nella serata, per chi è interessato può richiedere anche di partecipare alla sessione delle 21. Grazie e buona giornata, a domani, a domani a tutti. Grazie Valerio, grazie Roberto, grazie Vincenzo e grazie, siete molto partecipi. a domani.